il banchetto con brioche e tè oppure bottiglia di vino salame sarà campo base entriamo nella mentalità triage a 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 vado su faccio il giro totale a 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 i bambini che si divertono col giochino quando hai fatto due giri per andare a casa ho il fiatone per fare questa roba qua peggio di fare una salita di 7-8 km ho lì un spettacolo quel pezzo là spettacolo spettacolo a 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 adesso la farò anche per tanto per capire si fa la curva e si viene giù questa ok è capibile un po' andremo questa è più bella da fare si pulisce però se 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 si se si se Grazie a tutti Eccola qua, noi dobbiamo andare là, allora o andiamo di là o andiamo di là, questa dobbiamo lasciar perdere perché è quella che ci fa, però per renderla più tecnica secondo me, cosa diciamo di qua? Speriamo che qua ci sia una roba in spazio, guarda ci sarebbero quei due scalini da saltar su, andiamo retti qua, facciamo dei scalini e siamo su al campo base Primo test del purgatorio Dovevo largarla un po' Oh 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 Sento che ci amiamo, ci amiamo Impossibile Cazzo abbiamo fatto tutto a zero E' bello Vai di là Taglia questo Cancella che ripeto Cazzo 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 mi si sgancia il pedale non si sta neanche in piedi non si sta neanche in piedi